Grazie a tutti. Io sono felice di avere il mio fianco nuovo, vedessimo così, peccato solo per pochi mesi, quindi è riuscita bene la dieta? La dieta ha funzionato perfettamente. Perfettamente, guardate, io sono veramente contenta, a dire la verità io non sono per niente in forma, però Claudia lo è, io non vedo l'ora di vederti in Sietà Mai. Anche io non vedo l'ora di iniziare il titolo, è la cosa che mi entusiasme e mi emoziona tantissimo. E quindi salutiamo Vercelli Oggi, noi tra l'altro Vercelli Oggi, la guardiamo sui palmari, quando siamo in giro, vediamo gli inviati di Vercelli Oggi, sempre, tutti gli anni è sempre stato così, ma ci saranno già su Vercelli Oggi, vai, dopo un minuto ci sono le foto. Fantastico. Fantastico, li abbiamo sempre, ci colleghiamo a Vercelli Oggi, ci sono già, ci sono già, complimenti veramente, no no, quest'anno sarà uguale, anzi, appena tiro fuori il telefono c'è già, vero? Grazie a tutti.